alexa accendi luce studio ok salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo ancora di come sviluppare e diciamo migliorare la nostra casa dal punto di vista smart quindi oggi parleremo di come integrare delle lampade smart all'interno della nostra abitazione sono lampade smart della miros questo marco che sto portando sul canale appunto perché sto integrando all'interno della mia abitazione quindi cerco di mettere tutti i dispositivi di questa marca perché secondo me è la migliore per rapporto qualità prezzo queste sono delle lampade a led che però hanno un aspetto estetico secondo me super interessante perché hanno l'aspetto ragazzi molto molto retro infatti guardate sono le lampade che sembrano le classiche lampade incandescenze quelle che eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa ma che adesso invece sono lampade a led ma anche super tecnologiche perché oltre ad avere questa estetica retro hanno però all'interno tanta tecnologia perché uno ovviamente come vi ho detto sono a led consumano solo 6 watt e fanno una luce pari ai 60 watt di incandescenza ma qua all'interno hanno un ricevitore wifi in più qua in basso sono colorate d'oro quindi tutto questo le rende davvero belle anche dal punto di vista estetico per metterle anche in lampade aperte quindi dove proprio si vede la lampadina perché comunque l'aspetto è davvero bello io infatti le metterò fuori sul terrazzo il mio terrazzo è coperto da un pergolato quindi non ci piove né niente e questo aspetto retro secondo me starà davvero davvero bene e in più ragazzi si hanno tutti i vantaggi appunto di queste lampade smart con l'accensione e lo spegnimento in varie situazioni programmarle e vi dicendo tutto integrato in un'applicazione miros quella che diciamo gestisce tutti i dispositivi con un'unica applicazione o integrata senza nessunissimo problema con alexa o con google home o col protocollo iftt quindi davvero compatibile con tutto e poi si installano in maniera super semplice il prezzo di queste lampade ragazzi è di circa 24 euro la coppia disponibile su amazon quindi possibile acquistare su amazon e soprattutto con il discorso della spedizione veloce di amazon i resi di amazon e i soliti discorsi che già sapete riguardante l'e commerce più famoso al mondo e però il prezzo ragazzi scende del 25 per cento con il coupon sconto che vi lascio in descrizione quindi secondo me il prezzo non è così alto per due lampade che vi faranno risparmiare sicuramente energia perché comunque come vi ho detto prima sono a led e consumano solo 6 watt ma anche ragazzi vi aiuteranno in tante situazioni perché sono davvero pratiche da installare quindi con tutti i vantaggi di essere smart quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e vediamo come installare queste lampade smart all'interno della nostra applicazione e dei nostri dispositivi compatibili con queste lampade smart della miros allora per prima cosa dobbiamo andare a scaricare l'applicazione miros se non ce l'abbiamo se già non abbiamo installata per altri dispositivi quindi andremo a cercare miros nel nostro store che sia apple o android quindi l'applicazione miros andiamo a fare apri nel mio caso perché è già installata chi non l'ha installata la scarica poi fa apri a questo punto andiamo a fare il più in alto a destra andiamo a selezionare il simbolo delle lampadine a questo punto ci dice di accendere la lampadina che dovrebbe lampeggiare tre volte ok vediamo se lampeggia tre volte sì quindi lei è pronta per essere installata quindi facciamo prosegui a questo punto dovremmo andare nelle nostro diciamo impostazione del telefono selezionare il wifi della lampada che vedete miros lb in questo caso quindi lo selezioniamo questo è per l'installazione iniziale poi non si fa più tutto questo discorso è ovviamente quindi ok torniamo nell'applicazione miros a questo punto la lampada si deve installare si è installata già siamo quasi già alla fine dell'installazione possiamo rinominarla come vogliamo quindi lei lo andrò a chiamare luce luce studio perfetto facciamo fine qua possiamo dargli il simbolo che vogliamo la lampada quindi perché così quando avremo più lampade avremo simboli diversi in base a il tipo di lampada a cui abbiamo messo questa lampadina quindi lascio la lampadina normale io tanto per farvi vedere a questo punto dobbiamo andare a mettere il wifi di casa quindi selezioniamo il nostro wifi e facciamo prosegui aspettiamo che finisca l'installazione lei sta lampeggiando perché si sta installando sto un po diventando cieco con questa luce qua davanti ho trovato un smart bulb della schiena per se potrei controllare questo dispositivo dicendo spegni smart bulb ok perfetto vedete che la lampada si è installata in miros quindi facciamo fatto e vedete che ce la troviamo qua nei nostri dispositivi all'interno dell'applicazione miros e in più alexa ha già riscontrato questa nuova diciamo questo nuovo dispositivo a questo punto cosa vedete che una volta installata basterà cliccare nel simbolo qua dell'applicazione per spegnere accendere la lampada ma ovviamente la cosa più interessante oltre che accendere e spegnere tramite lo smartphone sarà la possibilità di andare a creare anche delle runtime quindi la possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento di queste lampade che diventa secondo me molto utile soprattutto come deterrente di notte da far accendere e spegnere magari la luce della cucina della sala turno che diventa molto utile per tenere magari lontani i ladri perché vedono comunque queste lampade che si accendono e si spegnono quindi pensano che ci sia un qualcuno che sta girando per casa e questa secondo me è una cosa davvero interessante anche perché con questi consumi di solo 6 watt si può tranquillamente non lasciare le accese fisse ma farle accendere ogni tanto per 5 minuti 10 minuti quella della cucina del bagno della sala e via dicendo e poi ovviamente anche il fatto di poterle farle accendere quando vogliamo nel senso che magari sappiamo che ci alziamo al mattino d'inverno che è buio e ci alziamo alle non so le sei del mattino tutte le mattine alle 6 ci alziamo programmiamo che alle sei del mattino nei giorni lavorativi ci alziamo e la lampada si accende da sola quindi noi quando arriviamo giù abbiamo già le luci accese stessa cosa magari possiamo fare con lo spegnimento serale vi dicendo perché comunque queste lampade per funzionare le dovremo comunque lasciare se vogliamo accese nella corrente dell'interruttore perché se spegniamo l'interruttore e toglie la corrente ovviamente il wifi non funziona più quindi queste lampade non sono più raggiungibili da nessun dispositivo poi possiamo vedete anche decidere l'auto spegnimento dopo 8 minuti questo è quello che possiamo fare a livello di runtime ma torniamo nei nostri dispositivi e se io vado a cliccare sul simbolo qua vedete che posso andare a diminuire o aumentare l'intensità della lampada già con il simbolo della lampadina che abbiamo qua e in più poi qua possiamo andare a modificare il logo qua in alto con mettendo un altro logo e possiamo andare poi a rimodificare il nome della lampada e vi dicendo questo è tutto quello che possiamo fare ovviamente dall'applicazione miros che già va benissimo ma in più ovviamente possiamo andare ad utilizzarla con alexa quindi e alexa è partita perché si è sentita tirata in causa quindi vado nell'applicazione di alexa e controllo che ci sia la lampada che io ho chiamato luce studio quindi vado nei dispositivi vado nel simbolo delle lampadine ok cerchiamo che ci sia luce studio vedete che c'è luce studio che adesso è su on quindi non ho dovuto fare niente con alexa perché comunque una volta che ho installato le skill di miros perché comunque con alexa per installare le skill ovviamente se avete già installato le skill miros per qualsiasi altro dispositivo che sia un termostato che sia una presa intelligente che sia qualsiasi cosa abbiate di miros ovviamente la skill non la dovrete più installare e vedete che alexa ha riconosciuto da solo la lampada quando sono andata ad installare l'ha integrata da solo nell'applicazione miros quindi facciamo una prova con alexa a vedere se ci accende si spegne la luce alexa spegni luce studio ok vedete quindi avete visto come si è integrato perfettamente con il dispositivo alexa senza fare praticamente niente e la stessa cosa o simile rimane con google perché essendo compatibile anche con google home la cosa rimane molto simile quindi adesso io google non ce l'ho qua ce l'ho nell'altra stanza se io vado ad attivare l'applicazione google home non ci resterà che andare a cercare questa lampada quindi andremo a fare quindi andremo a cliccare sul più in alto a sinistra configura dispositivo poi selezioniamo hai già configurato qualcosa ok fa l'analisi vedete che trova sei dispositivi miros quindi vado a cliccare su cerca di nuovi dispositivi fa l'analisi ecco che ha trovato tutti i dispositivi miros disponibili nella mia abitazione in questo momento vedete che c'è luce studio luce smart e la chiama anche quindi andandola a selezionare e facendo avanti viene installata nel google home quindi basterà dire ok google accendi luce studio e google accenderà luce studio quindi ragazzi spero di essere stato chiaro spero di avervi spiegato in maniera semplice come si integrano e come sia risparmio con queste lampade perché consumano solo 6 watt costano come vi ho detto 24 euro su amazon quindi spedizione super veloce da parte di amazon che però il prezzo scende del 25 per cento con il coupon sconto che vi lascio in descrizione e secondo me integrare tutti questi prodotti miros che hanno un rapporto qualità prezzo davvero incredibile secondo me e avete visto anche l'applicazione semplice come per gestirli tutti poi integrata con alexa tanta tanta roba quindi ragazzi se questo video in cui ho portato questa lampada smart con stile retro da parte di miros se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram per sapere in anteprima i prodotti che porterò tipo questi li avevo già fatti vedere diciamo come anteprima su instagram e ovviamente ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un'ecensione un testo un torno alla novità e alexa accendi luce studio ok ciao 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 ciao